Chiamiamo insieme gli altri che sono stati nominati dalla Chiesa Fonte di Vita, il nostro fratello Diacono Salvatore Sappio, che viene nominato oggi anziano della Chiesa di Modena. Vogliamo fare un applauso? Grazie a tutti. Voglio chiamare anche gli altri due diaconi che sono già stati nominati, ma pregheremo anche per loro, la diaconesa Milena e il diacono Luigi. E anche la diaconesa Miriam, che vengono anche lei, e la diaconesa Susi. E adesso chiedo a voi di pregare. Grazie. Gloria al tuo nome padre, veniamo a tenere il nome di Gesù. Signore, così come è stato già detto, noi ti abbiamo pregato tanto perché tu aggiungessi operai, sapendo, Signore, conoscendo che la messa è grande, Signore, e che veramente gli operai sono pochi. Signore, quello che possiamo chiederti oggi tutti insieme qui come Chiesa, Signore, ti vogliamo chiedere un'unzione speciale su ognuno di loro, Signore, affinché veramente sentano l'importanza di servire a te, Signore. Loro non serviranno uomini, Signore, serviranno tu, che sei l'iddio altissimo, Signore, al di sopra di tutti gli uomini, al di sopra di ogni nome. Sappiamo, Signore, che tu affiderai loro una delega specifica, darai ad ognuno di loro una visione, Signore, di servizio. Sì, Signore, questa mattina, Signore, questo investimento ufficiale, Signore, e sappiamo che tu ciò che dai, Signore, non riprendi più, Signore. E quindi loro saranno al tuo servizio per sempre, Signore, fino all'ultimo giorno della loro permanenza su questa terra. Grazie per loro, Signore. Spirito Santo, guidali, guidali, sì. Riempili e guidali. Consiglia, Signore, loro, dagli una vita familiare serena. Sì, Signore, anche loro subiranno, Signore. Umiliazioni, subiranno, Signore, tutto ciò che abbiamo sentito anche questa mattina, ma da questo, Signore, loro traranno forza per servire a Te, Signore. Riceveranno direttamente da Te, Signore, questa forza. Grazie per ognuno di loro. Noi li benediciamo nel nome di Gesù. 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 Amen, amen, amen.